Questo video riguarda i migliori tre trattori elettrici per bambini. Il vincitore della qualità è il Peg Max Diesel Tractor. Al centro del volante si trova il claxon funzionante. Il sedile può essere regolato in due posizioni a seconda dell'altezza del bambino. I pedali possono essere regolati in due altezze a seconda della lunghezza delle gambe del bambino. Comodo vano portabibite posto davanti al sedile. Può essere usato anche come pratico portaoggetti. Rimorchio asportabile, può contenere fino a 10 kg di peso. Con sponde alte e un lato aperto per il carico e lo scarico facilitato. Le ruote con battistrada tassellato dalle grandi dimensioni permettono di affrontare ogni tipo di terreno. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Smobi Trattore Maxi. Diventa un vero piccolo capocantiere con il tuo Trattore Builder Maxi. Regola il tuo sedile per essere comodamente posizionato e parti all'avventura. Grazie ai pedali puoi spostarti facilmente. Con una pala nella parte anteriore, una scavatrice e un rimorchio nella parte posteriore, sarai in grado di afferrare, trasportare e spostare tutto ciò che trovi come con un vero Trattore. Non dimenticare di farti sentire con il clacson integrato nel volante, passerai giornate intere divertendoti con il tuo nuovo Trattore. Lunghezza 182 cm, altezza 63,5 cm, adatto a bambini a partire dai 3 anni di età, fabbricazione francese, garanzia 2 anni. Il vincitore del premio è il Folk Class. Fin dalle sue origini, Folk ha raccolto la sfida di immaginare, progettare e produrre i suoi giocattoli in Francia, nei nostri laboratori situati a Oionnax nella regione Ronalpes. Si cambiano le candele, un piccolo cambio d'olio e si riparte per nuove avventure. Per caricare e trasportare frutta e verdura dell'orto o portare ovunque i propri giocattoli preferiti non è mai stato così divertente. Un super Trattore per divertirsi in giardino per sempre, ecco un programma bucolico per i nostri bambini col pollice verde. Fare giocattoli all'aperto abbastanza forti per resistere ai bambini più intrepidi è ciò che abbiamo fatto per oltre 70 anni. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.